Salve a tutti, buonasera. Qui è il nostro comitato, ci stanno i giorni in Rind. Praticamente ci siamo lasciati prima dell'estate con le problematiche della cumana e del trasporto su gomma e oggi abbiamo ripresentato il problema alle istituzioni, fino ad arrivare al nodo principale del problema cioè alla commissione trasporti della regione Campania. Stamattina c'è stato un intervento presso la presidenza della commissione e noi del comitato siamo intervenuti con delle domande affinché ci fossero delle risposte date da alcuni responsabili del trasporto Campania. Adesso do parola a Marisa Lastorino, presidente del comitato, che ci illustrerà quello che è stata la mattinata presso la regione. Prego Marisa. Buonasera a tutti. Come già ha detto Davide, in questi ultimi tempi noi non abbiamo mai abbandonato questa problematica del trasporto pubblico, infatti abbiamo avuto periodicamente incontri con il nostro sindaco fino a che stamattina si è riunita la quarta commissione consigliare presso il Consiglio regionale della Campania al quale siamo stati invitati. Hanno partecipato tutte le istituzioni dei comuni fregrei e in più i funzionari dei vari enti coinvolti in questa situazione. Alla fine di questo incontro anche noi abbiamo potuto fare le nostre proposte e abbiamo chiesto sicuramente che fossero garantite le fasce orarie per quanto riguarda sia gli studenti che i lavoratori. Quindi la fascia oraria dalle 6 alle 8 e 30, dalle 13 alle 15, dalle 6 alle 8, dalle 18 alle 20 diciamo. Chiaramente ci sono state date anche delle risposte ma in ogni caso abbiamo voluto delle risposte certe in merito e probabilmente prossimamente saremo riconvocati per avere ulteriori risposte molto più sicure. Questo per quanto riguarda chiaramente il nostro intervento stamattina ma vogliamo ricordare a tutta la popolazione che il Comitato Cittadino per i Trasporti non si è fermato, non si ferma e intende ancora andare avanti e intende avere la partecipazione di tutti i cittadini di Monte di Procida che sono interessati a questa problematica e ne siamo veramente tanti. Per cui vi invitiamo prossimamente alle nostre riunioni che sempre si terranno qui a Monte di Procida. Avete tutti i nostri numeri di telefono per cui mettetevi in contatto con noi che noi siamo comunque a disposizione di tutta la cittadinanza. Grazie.